Ciao! 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 E come non vatsete? Come non cae! E... E... Sì! Vistina! E mila mamma vistina Sreka su mamma, ma che tonka So dusha e sce rvea Sì, 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 sì. Sì, 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 Oh! Maš be! Maš be! Ti ciò si mi si zvega? Maš qui di gesto? Maš co è? Saki è prego limo! Ma lì ciò! Pitai da sestru ti da ne ima il nema! Ima! Ima! A stavi-a! Evo! 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 Peri zadi ritwa na esan Eri è nasc makeonski Solsi pro lena Gravi topli maicinski, decina se ottima, Po svetoce raspresca, neschi igri ostavia. Kare ste, macchie donchina? Kare ste, krajotinote? Nadam, znaše, majka je dejska, za nas, znaše, makedonija! Kromit! 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 Ladov! Na! Žiti se! Ladov! Žiđa! Kromit! Kromit! Eee! Kromit! Šefe, mi? Ja živam, da rasplaka. Ja, ti vek, da ne sakax da neteš ona bilma, gdje? Kromit! Aide sega da me vidamo… so какva kolpulorna tocika nas takvua. Eo sak teko nas. Da, bravo, moze tezko. Ajde, tezko! Amma! Amma, da ne igram tezko? Ajde, tezko tovo! Amma! Znate, mi immagino un ruro, in cui immagino un lavoro. Znate, da gioviamo... ...tezko tovo. O, ti, a ne? Dove, dove, dove! Ajde! Chego, ugram, ajde! 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 Esa! Devo ritmo! Ajde, chego! Jig, jig, jig! Jig! Ajde! Sack! 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 Borgalopso no, borgalopso no! Conérsio Di B학 aloudo! I think the camera's going to be here, All the hands of the pedir! Executiveゅbka Borgalopso no! Innovations on the tête! We're going to make it all together! Hey, everyone! And if you fish belong to Coors of the starse, ... ... ... ... ... ... lunedì! Dava! Seu detto io già finisco! È un popolo! Chimera, ti salvo a chi non c'è? Come mi sembra? Nessano siccome la cultura? Follore, musica... Talentina! Sì, non lo senti. Mi sembra che sono venuto neanche così. Non. A presto saka te blezi, l'Europa... ...mora mi se presto a dire che si neanche così. Cosa? Amorak! Cosa? E solo da me posentare, che come Europa e non è possibile, è possibile. Vieni? Vieni! 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 Che c'è? Vieni le bè di! Da! Da! Le bè di! La come di? Avanti! E passiamo! Le bè di? Le bè di? Quelle belle 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.